Lorenzo Caiolo non era un professore, era il professore. Lo ricorda con questa frase la dirigente scolastica dell'Istituto Morvillo Falcone Irene Esposito nel giorno in cui l'aula professori della sua scuola è stata a lui intitolata. Lorenzo Caiolo morì prematuramente in un tragico incidente stradale nel 2018. Quattro anni fa io ho messo piede per la prima volta in questo istituto, due nomi riecheggiavano, Melissa e Lorenzo. Melissa che era l'esempio della studentessa modello. Al di là della vicenda tristissima che noi tutti conosciamo, Melissa è e resta un esempio, un modello per tutti i ragazzi, proprio per il suo impegno nello studio. D'altra parte Lorenzo Caiolo era un modello per la comunità scolastica intera. Alla scopertura della targa erano presenti autorità civili e militari, oltre alla moglie del compianto professor Caiolo. La regola di vita della professore era quella che ogni individuo doveva prima di tutto percorrere un sentiero intriso di uguaglianza e legalità. E' questo il messaggio che ha cercato di dare ai suoi studenti, quei ragazzi che ogni adulto ha il dovere di comprendere e indirizzare verso la legalità, come affermato dal procuratore della Repubblica del Tribunale di Brindisi, Antonio De Donno. Il percorso della legalità è un percorso difficile, è un percorso ostacolo, ma è l'unico percorso che consente di realizzare la soddisfazione delle proprie esigenze, dei propri bisogni, in un mondo, in una società ordinata, una società libera e ordinata. All'evento presentato dal collega Antonio Celeste è partecipato, tra gli altri, il sostituto procuratore nazionale antimafia Antonino Fanara.